Raccontami la tua esperienza, come si fa a diventare Buffon? Ma, diciamo, è una somma secondo me di esperienze, è una somma di cambiamenti che uno fa crescendo e quindi ho avuto secondo me la fortuna di avere determinate doti, ho avuto la fortuna più grande di incanalarne nell'ambito e nella disciplina che più si confaceva a questi doti e poi, devo dire, nel tempo ho avuto l'umiltà di volermi migliorare sempre. Quando tu sei molto esigente con te stesso, non puoi più migliorare.